L'impressione molto positiva è sempre un incontro di crescita, di condivisione e di riflessione. Mi porto a casa quanto è importante è la marca nella mente del consumatore, quindi soprattutto per il mio ruolo e per la mia azienda rifletterò molto e lavorerò nel team per rafforzare i valori del brand che devono entrare sempre di più tramite la relazione altro elemento importante che è venuto fuori oggi nella mente del consumatore.